Musica Bentrovati con il TGLIS di Telebari. Nel corso delle perquisizioni eseguite il 10 ottobre nell'abitazione e in altri locali in uso all'indagato non è stata rinvenuta nella disponibilità di Vincenzo Coviello documentazione attinente ai fatti per cui si procede. Lo affermano in una dichiarazione gli avvocati di Vincenzo Coviello, l'ex bancario di Intesa San Paolo, accusato di aver spiato i conti correnti e le carte di credito di migliaia di correntisti, tra cui la premier Giorgia Meloni. Puglia Culture è la nuova denominazione del teatro pubblico pugliese che cambia nome dopo 45 anni nell'ambito di un processo di trasformazione e rinnovamento che vede l'ente impegnato oggi in numerose attività. Il vecchio teatro pubblico pugliese ha raggiunto quota 76 soci e si è trasformato in organizzatore e ideatore di grandi manifestazioni. Nel corso degli anni l'ente ha saputo affermarsi tra i primi circuiti regionali d'Italia. Circa 80 stagioni e rassegne, oltre 100 spazi attivati, 800 spettacoli, 180.000 spettatori l'anno e molteplici progettualità dedicate alla crescita del pubblico e alla partecipazione culturale. E adesso le altre notizie del TGLIS. Distribuiti i kit per l'avvio del servizio di raccolta differenziata porta a porta nei quartieri Torriamare, San Giorgio e Sant'Anna. Le pattumelle potranno essere ritirate fino al 19 ottobre nel punto mobile in via Mimmo Conenna dalle 15 al 18.30. I titolari delle utenze domestiche avranno la possibilità di ottenerle anche recandosi nell'Infopoint in via Monte 6 Busi al Civico 2 a Torriamare, dal lunedì al venerdì nella fascia oraria 8.30-19.30. Il servizio di raccolta differenziata porta a porta vedrà il coinvolgimento di oltre 6.000 utenze domestiche, 136 condomini, 265 utenze non domestiche, grazie alla collaborazione di Comune di Bari, Amiopuglia e Conai. Il futuro parte dalla Puglia, le big tech come Google e Netflix si sono date appuntamento a Bari per la 183esima edizione della Conference on Recommender Systems, uno dei maggiori eventi internazionali nel campo dell'intelligenza artificiale. Per l'occasione è stata scelta la cornice del Teatro Petruzzelli, una location dallo stile classico per discutere sul nostro domani. In platea una folla gremita di giovanissimi, presenti anche delegazioni provenienti dalla Cina e dalla Nuova Zelanda. La decisione di svolgere queste conferenze a Bari, perché i nostri atenei sono stati valutati come centri di eccellenza con laboratori di ricerca, dove oltre ai professionisti del settore ci sono soprattutto gli studenti. E ancora l'intelligenza artificiale può fornire un aiuto efficace anche per pianificare la terapia del tumore del seno, individuando le cure più appropriate per ogni singola paziente. E' questo il cuore di uno studio elaborato dal gruppo di ricerca dell'Istituto Tumori di Bari. Lo studio presenta un sistema di supporto alle decisioni mediche completamente automatizzato e basato su un algoritmo di intelligenza artificiale che identifica precocemente quali pazienti con tumore del seno possono essere maggiormente propense a rispondere alla chemioterapia neoaudiuvante. Nuovo anno accademico, stessi vecchi problemi, il sovraffollamento delle aule è soltanto una delle problematiche momentane, in quanto dopo le prime settimane di lezione è prevista una diminuzione dei frequentanti, ma nell'attesa molti seguono le lezioni sul pavimento, persino in altri dipartimenti. L'Ateneo barese è uno dei primi palazzi storici che i turisti possono osservare vicino alla stazione centrale vanta di una straordinaria bellezza. Gli studenti stessi sono felici di studiare nelle antiche biblioteche, di passeggiare tra gli archi, ma gli affreschi purtroppo si alternano con graffiti e aule gremite di persone. Altri punti invece risultano addirittura inaccessibili. Un corteo di studenti partito dall'Istituto Einaudi di Foggia e snodatosi lungo la città si è svolto per manifestare vicinanza a due giovani tifosi foggiani ricoverati in gravi condizioni in ospedale a potenza coinvolti nel tragico incidente stradale costato la vita a tre loro amici Samuel Del Grande, Michele Biccari e Gaetano Gentile. Il padre di una delle vittime risulta al momento indagato. Matteo frequenta la classe quinta all'Istituto Einaudi grieco, Samuele la classe terza all'Einaudi. Entrambi lottano per la vita nei loro letti di ospedale. Grande partecipazione da parte di delegazioni di studenti di vari istituti superiori della città. Hanno deciso di occupare lo stabilimento in cui lavorano perché preoccupati per il loro futuro occupazionale. Successivamente è stata indetta un'assemblea permanente per far sentire la loro voce. Sono le lavoratrici e i lavoratori della sede di Statte della Hiab Italia, azienda specializzata nelle attrezzature per la movimentazione su strada dei carichi. Per i sindacati il mancato rilancio del sito del Tarantino è inaccettabile perché la delocalizzazione produttiva dallo stabilimento di Statte a quello di Minervio in provincia di Bologna, annunciata dall'azienda, comporterebbe la dismissione del sito di Statte con evidenti ripercussioni sulla tenuta occupazionale. Una raccolta fondi sul sito GoFound.me è stata lanciata dalla cooperativa sociale Alter Eco di Cerignola che ha subito un ingente furto di olive in uno dei terreni che gestisce che sono stati confiscati alla mafia. Tutto è accaduto il 19 settembre scorso quando i gnoti sono stati sorpresi da un operatore a sottrarre orive su un terreno a diversi chilometri dal centro abitato intitolato alla memoria di Michele Cianci, il commerciante assassinato il 2 dicembre del 91 dalla criminalità organizzata di Cerignola per essersi ribellato ad un furto nella sua armeria. Nell'occasione, ha spiegato il presidente della cooperativa Alter Eco, Vincenzo Pugliese, l'operatore è stato anche aggredito dai malviventi perché li ha filmati mentre sottraevano le olive. Non arriva l'ascensore e la partoriente è costretta a dare alla luce il proprio figlio sul pavimento. È accaduto all'ospedale Vito Fazzi di Lecce e la notizia sta facendo il giro del web e non solo. La donna è stata poi soccorsa dal personale del pronto soccorso e ricoverata in ostetricia. Il problema sarebbe scaturito dalla mancata manutenzione sarebbero infatti ben 17 gli ascensori fuori uso nel nosocomio che aspettano di essere riparati. Un problema che sta raggiungendo dimensioni preoccupanti. E con il TG di Settutto, grazie per averci seguito. Buon proseguimento. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.